Giancarlo è tempo di olio nuovo, tempo di battesimo per l'olio nuovo in questo caso di Paolo Bacciotti, lo hai sperimentato? L'ha sperimentato, ottimo, noi l'abbiamo già sperimentato, appena dal produttore al consumatore subito, abbiamo assaggiato, ottimo, ringraziamo Paolo per averci ospitato per questo evento che sicuramente è importante, olio nuovo vita nuova come si suol dire. Fionettino non ha bisogno di oliare niente dei suoi meccanismi? Di mantenere la condizione che ha, molti impegni, Coppa Italia, Europa League, campionato, di mantenere lo staff al completo, anche se purtroppo ci sono sempre delle vicissitudini che possono succedere, però è una rosa competitiva e può sopperire a volte a qualche assenza che si crea durante l'annata. Per chiudere, Rossi, chi ti ricorda dei giocatori del passato nei quali hai giocato? Magari mi viene in mente Ramon Diaz? Sì, è un giocatore veloce, rapido, bravo tecnicamente, che fa gol, quindi è un giocatore direi completo. Ha riacquistato la fiducia in se stesso, ha riacquistato la forma fisica e sulle doti tecniche non c'erano assolutamente dubbi, però quest'anno ha confermato veramente il suo valore a livello nazionale e internazionale. Può stare questo paragone? Ramon Diaz, Baggio, anche Baggio lo metterei, anche se è un giocatore un po' diverso, però sono questi giocatori che sicuramente fanno la differenza.